Riusciremo a sopravvivere 100 giorni in questa serie hardcore di Minecraft con un obiettivo giornaliero da raggiungere? Penso di no, ma ci proveremo. Iscrivetevi se siete nuovi. Amici, vi do il benvenuto in questo primo giorno, e si spera non ultimo, di questa nuova serie hardcore. Già che vedo le zucche buono, vedo le mucche meglio ancora, c'è un'ape che si tocca alla fine, però vabbè. Come vi avrò magari detto nella intro, non lo so. Sarà un totale di 100 giorni in hardcore, quindi una cosa impressionante. Che non ci arriveremo mai, ma ci proveremo. E in teoria ne facciamo circa 10 ad episodio, poi vabbè, in caso vediamo, tipo adesso, vediamo cosa fare. Ed ogni episodio appunto avrà degli obiettivi, tipo questo obiettivo. Oh, lascia fare che abbiamo già trovato le mucche. La prima cosa da fare è assolutamente, dopo aver picchiato le mucche, con delle zucche, dicevo sarà assolutamente farci sia gli utensili che la crafting table. Quindi facciamoci le classiche robe base base, che volendo del giorno 1 possono anche già andare bene. E per il momento direi che siamo soddisfatti. Quindi, allora, ci prendiamo, oltre alla vita di altre mucche, che so che ci siete, nel mentre che fan finta di giocare a nascondino con la vita da morte, mi prendo altro legno. Allora, mucche, siamo partite col piede sbagliato. Volendo, possiamo partire con un'ascia sbagliata, però comunque sarebbe un'altra storia. Magari, se voi spawnaste... No, niente, vabbè, niente. Io ne ho uccisa una, e già fare storie. Stuk asciata in testa, Stuk! Troppo facile, one-shotato. Uh, no, vabbè, e abbiamo già trovato il ferro senza andare in caverna. Che stonks! Allora, in teoria, gli obiettivi, e intanto abbiamo fatto l'advancement, volevo tipo darmeli io a caso, del tipo il primo giorno prendere magari, fare il letto, il secondo, il ferro, ma vedo che si sono sovrapposti i giorni. Perciò ci mettiamo qualcosa, appena troviamo le pecore andiamo a nanna, altrimenti la vedo dura. Piccone fatto, e direi di prenderci subito sto ferro... Che è un cifro! Oh sì! Che bene, che bene, che bene, che bene. Ok, quindi, tipo i progressi del giorno 1 e del giorno 2 le abbiamo fatti. Non ci resta che trovare un letto, appena si fa notte dormiamo, e passiamo al next day, nel quale, oltre a procacciarci il cibo, iniziamo a prendere materiali e cose per la nostra casa. Allora, non ho trovato le pecore, ma fortunatamente ho trovato queste canne da zucchero, che, devo ammettere, non sono per niente male. Perciò me le prendo, e mi prendo pure la sabbia per una futura farm di canne da zucchero, che non so al momento cosa possa servirci, mi verrà chiaramente in mente, ma ci servirà. E tra l'altro scrivetemi nei commenti, secondo voi, quanti giorni durerà questa serie, o meglio, quanti giorni durerò in questa serie. Io faccio un pre-raid, molto pochi, però voi in caso scrivetemi il numero esatto, e lì vedo... è proprio lui! Eh sì, ed è proprio lui, il portale matto. Madonna, che bene! Si è sponato in una zona golusa. Allora, dovrei segnarmi ste coordinate, oppure potremmo fare, tipo, la base in questa zona. Allora, ti prego, dammi roba buona, c'è sta. Uh! Ok, allora, flint, tutte quelle robe lì, fire charge, e la golden hoe. Beh, che fai, la butti? Sì. Vabbè, la prendiamo, la prendiamo. Ok, quindi ricordiamoci che in questa zona, oltre a esserci un'incredibile caverna, niente, tutto in sta zona c'è, perfetto. Mi aspetto tranquillamente, non lo so, il portale del land. Allora, due cose in realtà non ho ancora trovato. Le pecore, fondamentali, e soprattutto il carbone. Sto anche cercando di non correre per via della fame, però vedo dei maiali, preparo la mia spada, preparatevi i maiali. E anche oggi la strage l'abbiamo fatta. Dai, ma davvero non ci sono le pecore? Oh, tutti gli animali sto trovando. Eh, sono proprio loro. Eccole lì la pecore, perfetto. Siamo anche in un'ottima zona, a parte che ce ne sono una sbrega di pecore, e preferirei usare l'ascia, perché fa più danni, che l'ascia fare. Vabbè, le battute le abbiamo fatte, disiscrivetevi pure. Allora, io sto facendo un genocidio, perché fidatevi, non è mai abbastanza il cibo. Ah, in realtà so stupido. Potrei fare le farm, che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, nel senso giorni nel gioco. La inizio anche prendendo i semini, però non vorrei perderti... Madò, quanta roba. Eh, allora, ste pecore, raga, le fucilo. Proprio onestamente, mi serve la vostra lana, giusto per il meme, niente di troppo serio. Sarebbe bello lasciare in vita una coppia di animali a testa, però la mia lama deve fermarsi. Oh, quante pecore, tra l'altro. Ok, perfetto, perfetto. Siamo messi benissimo. Ci facciamo il letto, bellissimo. E è arrivata anche la notte, tra l'altro, quindi perfetto il primo giorno. Addios per sempre. E direi che Sweet Dreams, più che concesso, direi appunto che è stato accivato, come si dice in italiano, guadagnato appunto, il trofeo, primo giorno sbloccato. Perfetto. Quindi, come secondo giorno, dovrei farmi una casa. Sempre sto continuando a non correre, perché non ho il carbone. So che potrei usare il legno, però meglio il carbone. Allora, la nostra casa è stata fatta. La chiameremo la fortezza del fallimento. Ovviamente è fatta di fango e fallimento, altrimenti non si chiamerebbe fortezza del fallimento. È molto provvisoria, la classica casa del primo giorno. Appena si fa notte vado a dormire, però qua ci metto questo. Ci facciamo una porticina. Sistemiamo il tutto. Tra l'altro, ora questa parete, vi dico cosa ci faccio, è una cosa molto carina. Per il momento facciamo questo. Ah, ma la crafting table? Sì, la crafting table. La fornace non l'avevo ancora fatta. Che imbarazzo. Eh, sei, nove, ma sono fin... Madonna, non si vede niente. Andiamo a dormire. Secondo giorno... Fatto. Quindi dormiamo. Stuk è proprio mattina. Il tetto non lo farò, chiaramente, finché non ho le torce. E i sign, praticamente, tipo a mo' di carcere, quando fanno i segnetti dei giorni passati. Facciamo un sign al giorno per, appunto, in teoria, 100 giorni. So che non si farebbe così, però, vabbè, è carina come cosa. Quindi io direi, stuk stuk fatto, dovrebbero essere 100 in teoria, ma ne riparleremo i prossimi giorni. Quindi mettiamoli giù, teniamo questo, e niente, ci serve il... Oh, potremmo... Ho in mente un'idea pazza. Potremmo bruciare gli animali. Ma prima, in questo terzo giorno, direi di farci, oltre a un esame di coscienza del fatto che volevo bruciare i bigli animali, dei recinti per i suddetti animali. Allora, i due recinti li ho fatti, adesso non mi resta, tramite il potere dei semini, che attirare i vari animali. So che è meglio usare dei tappetini, però per il momento non voglio sprecare la lana, tanto prima o poi ce la facciamo. Vieni un attimo, Paul, che ti do di bravissimo, e stai lì, tipo, per sempre. Anzi, tra l'altro... No, le uova le ho lasciate giù, vabbè, dopo le prendo. Per concludere questa ultima giornata, se ce la facciamo oggi bene, se no, la prossima giornata, dopo ovviamente aver dormito, facciamo la farm di grano, tipo qui vicino all'acquetta, o comunque, vabbè, ci facciamo il bucket in caso, e poi portiamo dentro pecore e mucche. Signor Pollo, venga un attimo, che le devo far vedere anche lei una cosa, giusto per il meme, niente di serio. Sì, sì, e voi due, perfetto, sarete le prede principali. Cioè, no scherzavo, non sarete le prede... No, Pollo scherzavo, non siete le prede principali. Giuro che non è come sembra, ritorna la... Guarda come non torna più. Comunque, quando prima dicevo delle prede, ero serio. Ma continuiamo. E la farm? Sì, direi di farla qui, parte la farm. Però aspettate, a sto punto mi conviene fare prima il secchio. Stuck. Uh, c'è anche il coso per le pecore, è vero. Ok, tanta roba. Mega upgrade. Prima faccio il secchio, fatto, così prendo l'acqua, e poi andiamo a dormire. Oddio, la farm la potrei fare in casa. Delirio farmi in casa, tanto cosa vuoi che ci metta? No, dai. Oh, perfetto, con la spada in mano, così per sicurezza non si sa mai che ci cadano zombie dal cielo. Terzo, e probabilmente anche ultimo giorno di questo episodio, nel quale, oltre a fare un altro I, per farci capire che è passato un altro giorno, ci andiamo a prendere sia l'acqua per la farm, che appunto facciamo la farm, e poi ci possiamo salutare. Quindi, Stuck, acqua presa. Beh, diciamo che è tipo una farm piscina, ma vabbè, lasciamo perdere. Quindi, anche questo giorno non è ancora passato, però in realtà, diciamo che volge al termine, la fame si fa sentire, potrei in realtà davvero già iniziare a cucinare con questo, e direi che è anche il caso, mettiamo giù questi. progressi li abbiamo fatti, sì, non è male, pecora prima o poi, ma dosso e centri nel recinto. Quindi, salvo ed esco per questo primo episodio, abbiamo fatto tre giorni, quasi quattro, vi ringrazio per la visione, spero che questa serie possa piacervi, nei commenti scrivetemi tutti gli upgrade da fare piano piano, che li faremo tutti, fino al centesimo giorno. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani, alla solitaria, ovvero sei e mezza, con un nuovo video. Ciao!